15 luglio, un giorno ordinario, io ozio, individuo un insetto, mmm sì, contento io sono nel mio delizioso riposo estivo ma cos'è questo? la porta non è mai avuto crepe, avrò il coraggio, meglio mantenersi a terra, devo essere pronti in qualsiasi momento per, oh, qualcuno vive qui oltre la porta, qualcuno di bello, oh il mio respiro accelera come il corso dell'estate amorosa attraverso il mio cuore ancora, l'automiglioramento è d'ordine se devo conquistare il mio amore fitness dieta igiene e stile sono pronto dove sei amore mio c'è nessuno? angelo mio? non essere timido vieni fuori amore ma questo sono io? Narciso crudele il giorno 15 di luglio il mio amore si dimostra non altro che un intruglio il giorno 15 di luglio il giorno 15 di luglio il giorno 15 di luglio